Oggi siamo qui a Valleimara, a Piana degli Albanesi, ci sarà un workshop di fotografia tenuto dal maestro Dario Brocciaros che è master della Nikon School e ambassador dell'Elinchrom a livello internazionale e insomma tanti altri titoli che potrete vedere sul suo sito www.dariobrocciaros.it Oggi nella location Valleimara realizzeremo dei set in cui prevalentemente si lavorerà con le modelle del gruppo ETM Italia e con la luce flash per l'appunto su set gestiti da Dario Brocciaros e da me. Lo cerco di trasmettere con, definiamo la mia arte poi, si apre un delirio su questa frase, ma sicuramente il vedere la realtà in maniera diversa attraverso l'utilizzo di comunque flash che ricreano completamente l'atmosfera quindi non vedere attraverso ciò che vediamo ai nostri occhi ma ricreare ambientazioni, ciò che di luce e quant'altro attraverso l'uso dei flash e quello che vedremo oggi è proprio quello di cercare di mettere in pratica, tempo permettendo perché non c'è un clima così meraviglioso, l'utilizzo di flash quindi trasformando la luce ambiente esterna, in questo caso sarà di un maneggio ipico, con i giochi di luce che se vogliamo contraddistinguono un pochettino il mio modo di lavorare, il mio modo di vedere la fotografia. È un'immagine glamour, un'immagine legata al mondo femminile, alla loro femminilità. Sì, in effetti la struttura si presta perché è immersa in un contesto naturalistico, abbiamo la riserva orientata a Serre della Pizzuta, a Monte, a Valle abbiamo il lago di Piani gli Albanesi, una location da invidiare. E poi la struttura, essendo gestita a livello familiare, si presta molto a quelle che sono iniziative culturali, sportive, artistiche. Penso che la fotografia sia un'arte. Sì, stiamo facendo il primo dei set di questa bellissima giornata dal titolo Poker Dassi, Siamo qui nelle bellissime stalle del maneggio di Valle Imara e già c'è Dario che sta spiegando il primo set con la nostra Cristina e i primi, ovviamente, fotografi che partecipano all'evento. Stanno spiegando un po' quello che è la parte fotografica, quindi il settaggio delle macchine fotografiche e tutto quello che riguarda i flash o comunque delle luci che si possono usare.